Il parere negativo è unanime, quindi sarebbe una sorpresa se il Ministero volesse apportare una forzatura e dire che comunque questo impianto vogliono costruirlo. È un no secco quello del Sindaco di Belmonte Piceno alla costruzione di un maxi impianto fotovoltaico. La proposta arriva da una società inglese che vorrebbe realizzare l'opera su circa 40 ettari di terreno. Nel progetto sarebbe coinvolto anche il Comune di Servigliano, poiché l'area interessata sulla quale edificare è situata tra i due paesi. Parliamo di 40 ettari di impianto per una produzione di oltre 18 mega di produzione di energia elettrica, tanto impattante e tanto importante che verrà costruita una centrale elettrica proprio per poter assorbire tutta questa energia che altrimenti non avrebbe modo di essere stoccata in nessun modo. Questo impianto è assolutamente sproporzionato per le necessità del territorio. Tra l'altro dovrebbe sorgere un territorio in una collina in cui non ci sono, chiamiamo le brutture dal punto di vista architettonico, quindi ci siamo detti assolutamente contrari a questa proposta. E ci sono altre motivazioni per cui il Sindaco si dice contrario alla proposta, in primis la salvaguardia dell'ambiente e dei contesti storici presenti sul territorio. Del Monte Piceno, come è riseputo, è una sede di una necropoli picena, la più importante probabilmente del patrimonio archeologico piceno. E siccome questo, il terreno dove dovrebbe sorgere l'agrovoltaico, è limitrofo alla zona vincolata, ci sembra un motivo ulteriore per dire no, assolutamente no, a questo impianto. Tra l'altro si parla di ben 664 pali che andrebbero alla profondità di 3 metri e mezzo e è facilmente intuibile che in una zona di interesse archeologico mettere 664 pali è qualcosa di inverosimile. Al no dei sindaci dei comuni coinvolti si aggiunge quello della regione Marche, della provincia di Fermo. Tutti i comuni qui intorno hanno dato parere negativo per i vari impatti appena citati, compreso anche quello economico, quello turistico. Anche la provincia, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, ha dato parere negativo. È stata presentata una mozione provinciale che verrà votata, alla prossima occasione verrà votata all'unanimità. Stessa cosa la regione.